Tutto pronto all'istituto comprensivo Don Bosco di Santa Maria di Licodia per l'inizio dell'anno scolastico, la cui vigilia è stata caratterizzata dall'operazione antibullismo dei carabinieri, che ha visto l'allontanamento dal paese di due quindicenni che prendevano di mire coetanei. Abbiamo incontrato la vicepreside Mirella Rizzo, che spiega come la scuola ha tutelato i ragazzi vittima dei bulli. Intanto la scuola ha preso di questi atti, molti dei quali purtroppo sono accaduti fuori, quindi in una situazione di scarso controllo, dalla stessa bocca dei bambini. La prima tutela e quindi il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di ascoltarli e di spingerli a raccontare tutto, soprattutto ai genitori, alle famiglie, e se era il caso di rivolgersi alle autorità competenti perché si trattava di atti, così come raccontavano, di atti veramente violenti. Come scuola noi ci siamo attivati anche per chi non è stato vittima di bullismo ma compiva gli atti di bullismo e quindi anche per loro è stata, come dire, progettata un'azione educativa che mirava soprattutto attraverso dei laboratori creativi utili a canalizzare l'aggressività che questi ragazzi esprimevano nelle relazioni con i compagni, anche con gli insegnanti purtroppo, con tutto, contro tutto il personale della scuola. Abbiamo dato anche così impulso ad una rete di collaborazione con delle associazioni che si occupano nel sociale, del sociale anche dal punto di vista educativo, chiedendo loro di darci una mano e questa è stata una bella risposta da parte delle Aglie, da parte della Misericordia, da parte dei Salesiani di Barrià del Bosco. Che rassicurazione può dare agli studenti che si apprestano a entrare in classe e che saranno intimoriti dai fatti che sono venuti fuori? Questa è una scuola molto attenta, come abbiamo potuto dimostrare, molto attenta ai disagi, a tutti i tipi di disagi, sia, ripeto, dei bambini che subiscono in qualche modo le violenze, sia dei bambini che sono autori di violenza e che a sua volta sono portatori di altri gravi disagi. Quindi senza nessun timore si rivolgano con fiducia, come hanno fatto anche i loro compagni più grandi, ai docenti, a tutto il personale scolastico, al dirigente e sapranno loro quali sono le strategie migliori da utilizzare.